Per esprimere ancora una volta, dopo che ho già avuto numerosissime occasioni di farlo purtroppo, il cordoglio del mio, dell'amministrazione comunale e quindi rappresentando però l'intera città ai familiari delle vittime di questa tragedia, una tragedia che colpisce proprio al cuore la città e la colpisce al cuore per due motivi, intanto perché avviene nel porto che nella città è proprio il centro pulsante e poi perché ha come vittime persone che stavano svolgendo il loro lavoro, che ne sono morti sul lavoro. Una tragedia assolutamente inaspettata, improvvisa e quindi anche per questo suo essere inaspettato e improvvisa ci colpisce ancora di più, quindi colpisce la città, colpisce il suo porto, ha come vittime delle persone che stavano lavorando, ha proprio delle caratteristiche che fanno stare male, fanno stare male e colpiscono e stiamo cercando di reagire.